Benvenuto nel mio canale. Tutto ok? Cree, 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 cree. Perché stanco morto? Oggi che cosa... cosa ti è successo? Cree, cree. A me? Cosa? Cree, cree. Cree, cree. Cree, cree, cree. Cree, cree. Cree, cree. E tu non parli neanche di rilassi, mi sa? O non lo so? Cree, cree. Cree, cree. Cree, cree, cree. Cree, cree. Cavolo in effetti, montare i mobili in cucina è sempre un cavolo di problema. Montare i mobili in generale è un problema. Assolutamente. Assolutamente. Cree, cree, cree. Ho trent'anni. E tu? Cree, cree. Cree, cree. Cree, cree. Vorresti vedere però quella di la vostro vaso? Quando la fanno uscire? Cree, cree. Comunque l'ultima recente che ho visto pure io. E' quella di mercoledì. Cree, cree. Ok. Cree, cree. Grande, too, max. E' ben tornato. Coyant moments. Come stai? Cree, cree. 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 Perché è il nome del mio canale. E l'uno alla fine me l'ha messo Twitch. Io non lo volevo. Cree, cree. 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 Ma non sei abituato a vedere un episodio a settimana? Tipo di sbari gli episodi tutti di botto. Come me alla fine. Cree, cree. Ah, così giustamente te la guardi tutta di fila. Cree, cree. Cree, cree. Purtroppo non ti so consigliare miste perché neanch'io ho un gatto nella stanza. Perché altro perché romperebbe ogni cosa. Ma un giorno cercherò ovviamente. Quando avrò una a casa mia, ti prenderò un gatto e ti farò sapere qual è l'esperienza. Cree, cree. Che intendi? Cree, cree. E' vero, sono d'accordo con i G-Motions. Cree, cree. Cree, cree. Cree, cree. Cree. Ok, ti ringrazio. Il rettile sia quello più tranquillo. Ah, vabbè, assolutamente. Tigre allunga. Sarà quello più tranquillo. Però sai che c'è? Solitamente i gatti si fanno la loro vita. Quindi almeno lo rompono le palle. Che sto spack. Ed eccolo qui. E' romana. Certo. Me l'avevi detto. Cree, cree. Eeeh, cavolo. Il drago di Komodo è fichiosissimo. Però è tipo un bestione. Un luciartolone colossale. Cree, cree. E' vero che la saliva tossica però ci sta di servire tipo per uccidere degli animali, tipo le zebbre o robe così. E tu hai un iguano blu, ovviamente. Perfetto, Herman. E domani si inizia un'altra giornata, super shallow. E' troppo un drago probuto. E' troppo un drago probuto. Pure. Quello è figo. Molto figo. Quando Crash mette su una corazza di spin sul dorso. Una figata. E anche delle ali, ovviamente. Però sì. In effetti, mette su la corazza quella super, super metal. Quack, 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 quack. cre 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 pesa tanto in effetti ma tu lascialo lì che lui va per la sua strada tipo cre 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 Qual è l'altro rettile misto? In realtà no, perché è come avere una tigre dentro casa Non puoi Probabila Tricle 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 Questo è vero, sono d'accordo Tricle 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 골 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 Grazie 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 Non saprei Un coccodrillo Secondo me una battaglia tra rettili Sarebbe tipo Colossale Ma neanche il tempo E' già subito Uccisione e battaglia Col drago di Komodo Ma lasciatelo lì Che quello sta vivendo tranquillo E' vero Perché è tipo gigantesco Assolutamente L'alligatore un po' meno De metri cinquantatré Bella roba C'è grande conto una barca Veramente E buonasera Come stai Lady Crown? Tutto ok? Spero che sia E cosa è successo Durante la partita Con cui io sto bene E tu Così Esatto Piore ho perso un'altra volta O no? E mo' Cosa si fa? Cosa si fa? Cosa si fa? Ouch In effetti Ora però c'è da vedere Lady Crown Credo E spero Cosa si fa? 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 un'altra settimana, oddio per il contento dai misto ovviamente team misto hai malodato il sole? no in realtà ma perché questa domanda? Skyrim reference ecco perché la gesta che oggi va davanti è forza di citazioni che ormai tipo oggi parlavo con una mia amica e avrò sparato una quantità di citazioni infinite infinite poi l'ultima citazione che per me è il memino della vita lei ho mandato a lei il video quello di Giulio ma che ne sanno a Skyrim che quella che quello lì è il sole è il sole ma 30 persone sono un po' tumaggio no? come vittime sacrificali per il drago di Komodo assurdo 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 il video che dove uno un cuore Sì. in effetti cioè lui è tipo l'equivalente in versione rettile del Big Le Boschi, per dire e hanno bisogno di caldare per dire il nostro tipo di pelle e la rispone e la rispone e la rispone si è molto piaciuto e a porto piscina vengono lì a stressarti e poi ti chiedono ma perché questo? ti chiedi ma perché questo? e ti rispondono ah po' ci andava è vero, ha lo stesso senso del discorso in pieno nulla da dire ma così te butto senza senso e arrivano 30 persone così va bene ma no mi dissorcio no che non c'è sta nessuno 12 16 16 17 . 19 20 ma in effetti ovviamente è tutto fila per quanto riguarda quello che scrive nisto è logico, mi fa troppo ridere, va bene così onesto, modalità punk proprio, ha senso dai anni, numeri, cifre, mille, citazioni c'è in arcane ovviamente grande Herman che è sbloccato il big scratching giuro che stavo pensando a lui, è vero? 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 dunque, buonanotte caro Herman e ancora buonanotte non ricordo non ricordo però ho capito alla fine 200 punti non è neanche troppo però nel doppio vediamo, vediamo completiamo tutte le richieste credo credo che siano arrivati dei punti bonus un po' tutti mi sa ci asteniamo modalità un po' un po' l'altro un po' l'altro un po' l'altro anche un po' l'altro è vero? E' santo misto, il doppio. E' santo, il doppio. 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 Ciao. I. Il doppio. può dire. quindi. il doppio. il doppio. il doppio. il doppio. il doppio.